condivisibile l'intervento di draghi sulle pagine del financial times l'ex presidente della bce dice stiamo affrontando una guerra contro il coronavirus e dobbiamo mobilitarci di conseguenza è necessario un cambio di mentalità come lo sarebbe in tempi di guerra il costo dell'esitazione potrebbe essere irreversibile cosa chiede draghi in sintesi il debito pubblico dice dovrà aumentare significativamente le priorità non deve essere solo offrire un reddito base a chi perde lavoro dobbiamo proteggere la gente dalla perdita del lavoro ancora dice se non lo facciamo emergeremo dalla crisi con una permanente occupazione più bassa in buona sostanza all'interno dell'articolo draghi ci dice che aumenterà il debito perché aumentiamo in dismisura la spesa pubblica aumenterà il debito perché crollerà il pil e di conseguenza le entrate fiscali la prima opzione attudirà i danni la seconda opzione ci porterà in una situazione depressiva simile a quella europea degli anni venti preparatoria al secondo conflitto mondiale secondo punto ci dice che per finanziare questo maggior debito serviranno iniezioni di liquidità da parte della bce e una mobilitazione dell'intero sistema finanziario molto bene diciamo noi ultimamente draghi sembra rinsavito e oggi bisognerebbe assolutamente ascoltare le sue parole ma da qui a riabilitarlo ne passa acqua sotto i ponti non dimentichiamo che fu lui sul britannia a dire che siamo finalmente pronti a passare dalle parole ai fatti dando inizio alla stagione delle privatizzazioni causa prima delle odierne carenze industriali italiane e non dimentichiamo la lettera draghi trisce che nel 2011 ha dato inizio alla stagione dell'austerità e dei folli tagli alla spesa causa prima dell'indebolimento del sistema economico e sanitario italiano non dimentichiamo grazie a tutti Grazie a tutti